Iniziamo il nostro percorso per cinque anni, siamo riusciti a scardinare la sinistra da Fossano, ma nessuno ci credeva. Paolo Cortese si è già complimentato e ha scritto, sarai anche il mio sindaco. Lo vedi? Adesso si lavora, dopo 25 anni di sinistra certo che metterle le mani là dentro non sono le sorprese, comunque ognuno i suoi scheletri se li ha, anche grandi. Comunque, la squadra da domani inizierà a lavorare, cominciamo a pensarci bene, sono stati eletti otto nella lista della Lega, quindi un applauso a questi otto, grazie. Poi avremo Luca Vene nella lista del candidato Dario Tallone sindaco, che è anche Lega ovviamente, quindi sono nove. E poi l'amico Giacomo Pellegrino che è riuscito a risuscitare Forza Italia, ha fatto un miracolo anche Giacomo Fossano. E adesso si mangia, festeggiamo perché è giusto festeggiare. Spero di non avere questo crollo proprio stasera perché domani mattina so già che ho due batterie nuove per partire. Le batterie le metterò anche a voi, ovviamente.